Chi era prima il telefono? Non mi ricordo. Hai, ti è arrivata una sola telefonata? Possibile che non ti ricordi? Ah, era l'ingegner Frasca. Ah. Evi dato del tuo con l'ingegner Frasca? Sì, perché? Siamo stati compagni di classe, non ci avevamo da una vita. Domani mi deve aiutare il merone. Ah, sì. E perché quando l'hai salutato, l'hai detto così ridendo? Porto il metro che lo misuriamo. Marte. Cosa dovete misurare tu e l'ingegner Frasca? E non mi chiamare Marte perché sai che mi dà fastidio? Vabbè, allora Martite, va meglio Martite. Sto pensando al tono di voce che avevi. Così, complice, suadente. All'ingegnere non si parla così, no? Ho capito perché ci sta un modo particolare per parlare all'ingegnere, no? Ho capito. O a Siria. Ancora così? È impossibile che tu sia il santo che vuoi farmi credere. Sì, ma sapai che ti passa per la testa? Tu lo sai che il tuo caro amico Roberto si è fatto un'attresca durante la radio al Nubilatto? C'è l'imbato? No, 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 Nubilatto. Quando la sua ragazza è riuscita a festeggiare con le amiche, lui si è visto con una. E chi te lo avrebbe detto? Alessia te l'ha detto. Che sciampista. Un taglio, una piega, parliamo di tutto. Comunque domani dobbiamo semplicemente andare a misurare il capallone di me. Bene. Andiamo a dormire, dai. Che domani ci aspetto un'alzataccia. Vai. Vabbè. Se tu vuoi andare, fra un po' arrivo. Bene. A domani. Buonani. Buonani. Bye. Grazie.